E un ben ritrovati a tutti quanti ragazzi, sempre Reno qui che vi parla, quest'oggi vi faccio vedere finalmente, ho sbloccato la maglietta di Kiflom dell'Epsilon Program Assolutamente quasi impossibile da trovare, non si può comprare, ma una volta sbloccata ce l'avrete per sempre E' quella che si trova sullo shop ufficiale di Rockstar Allora, come sbloccarla? Innanzitutto si può sbloccare esclusivamente con questo modo Non è garantito che ce la facciate, in quanto le possibilità sono veramente basse Io ho provato circa 150 volte, adesso capite perché di tanto in tanto bevevo Dunque, andiamo qui al bancone innanzitutto e prendiamo il Whiskey Macbet Che come potete vedere vi disintegrerà in un colpo solo, praticamente Adesso vi faccio vedere tutta la sequenza Ecco qua, noi adesso chiediamo da bere Tac, prese, grazie mille Buonissimo questo bicchiere Allora, la particolarità di questo shottino è che vi disintegrerà con un solo bicchiere Quindi adesso noi, ecco qua, cominciamo a collassare 5, 4, 3, 2, 1 E siamo circa per terra Perfetto Ora ci sveglieremo in un posto totalmente casuale Che potrebbe essere, per esempio, il cesso Oppure nel magazzino delle scorte Mi sono risvegliato nudo al Mount Chiliad Mi sono risvegliato nel campo da golf Mi sono svegliato su un edificio in costruzione Su una nave, al porto Le ho fatte praticamente tutte Fino che a un certo punto Finalmente mi sono risvegliato sopra l'edificio con l'Epsilon Program Con questa bellissima maglia addosso Una volta che l'avrete sbloccata Se ci riuscite Andrete semplicemente da Suburban E la troverete nelle magliette sbloccate Adesso non mi ricordo esattamente Sarà lì che vi aspetta e che vi guarda E sarà per sempre vostra Indipendentemente dal fatto che sia bella meno È una maglietta, direi, di livello leggendario A questo punto E finalmente sono riuscito a mostrarla Quindi da Reno per questo mini video Veramente tutto Noi ci vediamo alla prossima Direi con la maglietta a tutti Se riuscite a sbloccarla 3, 2, 1 Aloha